Una serie di proteste nei confronti del sindaco Felice Ranta dall'amministrazione in genere arrivano anche chiaramente, volano sul web e arrivano su Castelvetranus e devo ringraziare il sindaco che ha dato la disponibilità a rispondere ad alcune domande precise, ad alcuni quei siti che la gente ci ha posto, che i nostri ascoltatori ci hanno così sollecitato. Partiamo dal freddo, partiamo da questa problematica che ha visto i ragazzi del liceo scientifico soffrire questi problemi per un problema legato a riscaldamenti che non funzionano e hanno visto anche i ragazzi delle prime classi del liceo scientifico disertare le lezioni sempre per motivi di freddo. Cosa c'entra l'amministrazione in questo? Proprio con i ragazzi del liceo scientifico nulla, la competenza lì dovrebbe essere della provincia regionale di Trapani che purtroppo del libero consorzio che purtroppo ormai non è presente alle proprie obbligazioni, ma il comune non intende tirarsi indietro, proprio i ragazzi del liceo scientifico utilizzano un immobile di proprietà comunale, sono i locali della scuola Enrico Medi dove c'è stato un guasto improvviso perché l'impianto era stato già correttamente manutenuto nel mese di settembre del 2016 che è già stato riparato. Comprendo anche che fa parte del gioco i ragazzi del liceo, siamo stati tutti giovani, hanno in qualche maniera anche bisogno di poter protestare e rappresentare le loro istanze. È vero e di contro che c'è stata un'ondata particolare di freddo che ha colpito tutta l'Italia e la nostra città anche insieme ad altre e che ha determinato onestamente delle temperature particolarmente basse in alcune classi. Stiamo provvedendo con tutti gli strumenti che abbiamo, per noi è l'obiettivo numero uno quello di garantire ai nostri giovani concittadini di poter fare lezioni in maniera assolutamente tranquilla. Rappresento tuttavia che attorno a questo si sta creando la solita polemica invernale che riguarda un po' tutte le città d'Italia, ma che a Castelvetrano in qualche maniera prenda una eco ancora più forte, posto che qualcuno soffia sul fuoco, probabilmente perché a maggio si vota. Non comprendo le ragioni per le quali qualcuno si ritiene di avere l'autorevolezza tale da chiedere al sindaco la chiusura delle scuole, scuole che non verranno chiuse, non ci sono le condizioni perché questo si possa concretizzare anche per buona pace. Il disagio c'è, il disagio c'è stato. Il disagio lo si affronta con equilibrio, con compostezza, con senso di responsabilità chiedendo anche alle famiglie di collaborare sul punto. Vedi, molti di questi ragazzi scioperano e poi magari fanno delle passeggiate con i motorini in pienissimo freddo. Lo abbiamo fatto tutti e questo non mi stupisce. Spiace dover rilevare che a volte qualcuno soffia sul fuoco anche per fomentare polemiche. Stiamo facendo quello che possiamo. Gli impianti delle scuole per quelle scuole che ce l'hanno, attenzione, perché sono ancora scuole di competenza comunale, penso alla Lombardo Radice ed una parte della Ruggero Settimo che sono prive di riscaldamento. Stanno tentando di mettere tutto a norma e tutto a sistema, facciamo quello che possiamo. Ritengo che la situazione scolastica e degli edifici scolastici in questa città sia notevolmente migliorata in questo ultimo mandato amministrativo. Tuttavia ancora molto si deve fare, ma l'ondata di freddo è passata, quindi pensiamo alla primavera dove tutto sarà più freddo. Paradossalmente con questo freddo qualcuno soffia sul fuoco. Certo, perché a maggio si votano, nonostante siamo in pienissimo inverno con temperature glaciali che la nostra città onestamente non ricorda. Ma questo che l'ha detto? Il Presidente del Tribunale del Malato? Anche, non è pensabile che un Presidente di un'associazione assolutamente importante come quella del Tribunale del Tribunale del Malato possa provocare e possa innescare una richiesta che porti addirittura alla chiusura delle scuole cittadine. Non mi sembra una richiesta che oggi meriti accoglimento. Mi pare sostanzialmente una cosa strumentale che non vale la pena onestamente neanche per orare. Parliamo della rotatoria però al centro un po' anche di discussioni, di polemiche se vogliamo. Intanto queste aiuole, oggi sul giornale di Sicilia c'era proprio questo articolo, con queste aiuole realizzate davanti al vanico che sembrerebbero che possano creare delle problematiche ai cittadini, soprattutto agli automobilisti. Per carità, ognuno di noi può avere quelle cognizioni tecniche e ingegneristiche da poter suggerire qualsiasi cosa. Tuttavia la rotonda che finalmente stiamo completando in via caduta in assidia e che eviterà morti, è stato un luogo che ha purtroppo lasciato a questa città un bruttissimo ricordo. Quindi questo problema noi lo stiamo risolvendo e affrontando. Se la rotatoria presenta delle criticità tecniche che io non sono in condizione di valutare e che ritengo buona parte dei lettori di internet non abbiano le condizioni tecniche per poterlo fare. Tuttavia stiamo facendo gli approfondimenti ad un progetto approvato, progettato intanto da un progettista, da un tecnico, approvato dal Ministero delle Infrastrutture, che sarà poi oggetto di collaudo da parte degli uffici tecnici. Quindi se modifiche andranno fatte ad opera ultimata e una volta completati i lavori, le verificheremo. Già nei giorni scorsi l'assessore alla Polizia Municipale, ma anche l'assessore alle opere pubbliche, si è recato sul posto. Tuttavia ritengo che non si possa, per una semplice la mentela su internet, modificare un progetto, anche perché questa legge non lo prevede. Dobbiamo verificare intanto se queste aiuole, come tu le hai chiamate, sono oggettivamente sparti traffico. Io ritengo che in un progetto armonico di rotonda invece siano perfettamente compatibili. Ma proprio perché davanti al vanico? È una struttura privata. Tuttavia lo verificheremo e verificheremo se la rotonda approvata è quella conforme a norma. Se così è, è chiaro che non si modificherà nulla. Attenderei tuttavia la fine dei lavori. Ma sicuramente. E che tempi abbiamo? Che la cosa è più importante? I lavori dovrebbero finire, così come avevamo promesso, che avremmo aperto la rotonda prima di Natale, e questo è accaduto il 23 dicembre. Realisticamente i lavori verranno completati entro il mese di gennaio, primi di febbraio. E quindi abbiamo superato un momento di criticità, perché quella era una rotonda particolarmente delicata, perché oltre ad essere punto viario della città castelvetranese di quella parte del territorio, è anche uno svingolo importante per le province di Palermo e Agrigento. I commercianti della zona come hanno reagito? I commercianti della zona hanno non solo reagito bene, ma hanno collaborato e per questo ho il dovere di ringraziarli. Penso per esempio a Curabba che ha provveduto a proprie spese ad illuminare quella rotonda che era completamente al buio da degli impianti di illuminazione privata. Penso ai bar, al McDonald's, al bar di vicino e alle attività commerciali che non solo si sono resi conto della bontà dell'opera, ma soprattutto hanno collaborato speditamente perché questa potesse essere realizzata in tempi rapidi, cosa che è avvenuta. E un plasso lo ha fatto anche all'impresa. Vedi, le imprese sono determinate nella realizzazione di un'opera pubblica e con questa siamo stati fortunati, perché ha dimostrato serietà e soprattutto competenza nell'esecuzione dei lavori. Sindaco, abbiamo parlato molto dello Zeus Hotelli che è confiscato e che probabilmente lei suggerisce, ma è stato anche scelto da parte dell'Agenzia, di doverlo demolire. È un fatto positivo questo secondo lei? Assolutamente sì, però dico al di là delle scelte che sono opinabili. Io devo onestamente registrare un pressappochismo e un'approssimazione all'affrontare i problemi che è veramente disarmante, specie da gruppi politici che si candidano alla guida di questa città, che fanno ragionamenti senza conoscere lo stato dell'arte e degli atti, perché se uno vuole affrontare un problema in questa città dovrebbe avere almeno la possibilità di comprendere di che cosa parliamo. Lo Zeus Hotelli che è una struttura brutta, che è un edificio del quale non vale la pena conservare assolutamente nulla da un punto di vista tecnico e architettonico, perché anche questo parere mi sono fatto rilasciare, è una struttura ai cui costi di ripristino e di messa in sicurezza sono assolutamente superiori rispetto al costo necessario per la sua riedificazione ex novo. Ecco, parliamo di questo. Rispetto ad un patrimonio, specie di immobili confiscati nella nostra città, che ha disponibilità immobiliari infinite. Penso al Cedi, penso a Ciuri di Grano in via Partanna, penso a degli immobili in via Sant'Angelo, penso a degli immobili di immediata realizzazione nella via Campobello, ce ne sono un'infinità industriale. La ragione per la quale debba essere conservato un immobile fatiscente, peraltro realizzato in parte con materiali che oggi devono essere conferiti in discariche come rifiuti speciali, se non addirittura pericolosi e tossici, non comprendo qual è la ragione della protesta. Fa specie però rilevare che rispetto a delle perizie delle quali questo Comune è dotato, dei pareri resi anche dalla vicina compagnia dei carabinieri, delle valutazioni fatte con l'argenzia, del pericolo di imminente crollo di alcune parti dell'edificio che mettono a rischio la pubblica incolumità, su internet si apre un dibattito su tutto e su tutti senza conoscere neanche i problemi. Se questo è il nuovo che si proietta ad amministrare questa città, io sono seriamente preoccupato non già per le mie sorti politiche, ma soprattutto per coloro i quali dovranno essere amministrati me compreso come cittadino castelvetrano. E lei dei precari è preoccupato dalla situazione dei precari del Comune di Castelvetrano? Certo, i precari devono sapere con molto onestà che sono stati presi in giro per l'ennesima volta. Noi abbiamo fatto il piano di fuoriuscita del precariato, abbiamo approvato il piano di stabilizzazione, eravamo pronti con l'emissione dei bandi, fino a quando nella lettura di una norma, e questa è una cosa che mi viene più facile essendo avvocato, registriamo che fino a marzo non possiamo fare nulla, considerato che la Regione non è ancora riuscita a cofinanziare il percorso di stabilizzazione di fuoriuscita, ma soprattutto dobbiamo attendere le mobilità di quei dipendenti che dovrebbero arrivare dalle ex province regionali e dai liberi consorsi e una bella e buona presa in giro rispetto a chi, come me, con equilibrio, con compostezza e con onestà aveva avviato un piano di stabilizzazione di questo personale, che è assolutamente indispensabile nella gestione degli enti locali, al di là dei rapporti che ci possono essere con qualcuno, sono assolutamente lavoratori indispensabili. Registrare l'ennesima presa in giro, che è sospetta, perché se queste cose non le diciamo non ci capiamo, è sospetta perché siamo in un periodo preelettorale, quindi tenere ancora in piedi questo carrozzone, perché poi magari questa pletora di 15.000 precari siciliani possa votare in un modo o in un altro alle prossime elezioni regionali o amministrative, non ho il dovere di stigmatizzarlo e soprattutto ho il dovere di dirlo a coloro i quali ogni giorno collaborano con questo sindaco. La situazione degli immigrati a Casselvetrano che sembrano che stiano arrivando in abbondanza, perché si parla di apertura di altri centri, cosa l'amministrazione centra con questo e se centra? L'amministrazione comunale centra nella gestione intanto dei progetti SPRAR, per quanto riguarda l'arrivo degli immigrati alla distribuzione del territorio, la competenza appartiene al prefetto e alle prefetture d'Italia. Noi siamo in continuo contatto con la prefettura, non c'è nessun aumento di presenza di immigrati sul territorio castelvetranese, anzi ritengo che ci si avvicinerà quanto prima ad una graduale riduzione. Tuttavia ho il dovere di rappresentare anche su questo. Si è parlato di utilizzare il Cedi tra le tante notizie lette sui social, su internet. Lei legge molto i social, le legge. Mi diletto a leggere buona parte delle fesserie che trovo scritte sui social network e ho letto pure per esempio che il Cedi di Via Partanna, quello confiscato a Grigoli, per capirci, possa essere utilizzato come centro, come hotspot o comunque come luogo per accogliere immigrati. È circostanza falsa. Cioè su circostanze false si costruiscono ragionamenti politici. Io mi limito a stigmatizzare le circostanze false. Quella struttura è oggetto di interesse da parte di alcuni imprenditori per essere riconvertita in opificio industriale per poter garantire ai 44 lavoratori che sono in grande difficoltà, alcuni di loro hanno già perduto la cassa integrazione e la mobilità che li ha sostenuti economicamente fino ad oggi, cercare di ottenere da quei locali un'attività che possa loro consentire un futuro lavorativo. Forse l'aveva accennato il prefetto tempo fa quando è venuto a Castellorano in cao. No, c'è stato un anno e mezzo fa, anche un paio d'anni fa, un sopralluogo al quale io ho partecipato. Sì, ma io intervistando il prefetto alla domanda specifica, il prefetto disse non dobbiamo riqualificare l'immobile e non si esclude anche la possibilità di poter alloggiare extra comunità, quindi non è che poi sia tanto peregrina. Oggi vera la notizia, è vero il fatto che un anno e mezzo fa il prefetto Falco, presente questo sindaco, ha fatto un sopralluogo con i tecnici della prefettura e del ministero dell'interno che avevano e che dovevano verificare le condizioni perché quella struttura potesse essere utilizzata come centro di accoglienza. Quella ipotesi fu, nonostante la disponibilità del prefetto Morcone, che è il responsabile del processo migratorio nel territorio nazionale, avesse dato disponibilità al finanziamento, quella struttura non era utilizzabile se non con costi di adeguamento particolarmente copiosi e importanti, sicché quell'idea fu abbandonata anche per ragioni di ordine sociale, perché un concentramento di immigrati tutto in quel sito e in un determinato posto avrebbe creato certamente problematiche di ordine sociale. Ma parlare di una cosa che si è valutata e si è scartata già due anni fa, come se oggi fosse attuale, è evidentemente sospetto il periodo e mi riferisco sempre a quelle forze politiche che hanno in qualche maniera voglia di amministrare questa città, così non vanno da nessuna parte, specie se partono da notizie false. E' pur vero che in via Campobello si deve aprire un centro di accoglienza? In via Campobello c'è una società privata, mi pare del Catanese, che ha acquisito la disponibilità dell'immobile per adeguarlo, per destinarlo a centro di immigrati. Ad oggi quell'immobile non gode dell'agibilità che consenta questa struttura, ne ho già parlato in Prefettura e ci raccordiamo quotidianamente con il vicario del Prefetto, la Dottoressa Caruso, su questa problematica. Quindi anche questo non è un problema attuale. ho rappresentato al Signor Prefetto e alla Dottoressa Caruso tutte le problematiche di ordine sociale che si verrebbero a creare nell'ipotesi in cui quel centro dovesse essere una volta reso idoneo o destinato all'accoglienza. Possiamo parlare, cambiamo argomento, di una bella svolta che riguarda gli operai dell'ex belice ambiente che adesso sono ritornati, condivise nuove, macchine nuove, si pensa anche a una raccolta differenziata porta a porta. Quali sono le ultime novità? Le ultime novità è che abbiamo mantenuto fede a quegli impegni che questo Sindaco aveva assunto non solo con questi lavoratori che sono 54 operai e 9 amministrativi che ormai sono tutti transitati nella SRR e 54 di loro in distacco nella ditta Dasti che è quella che si è aggiudicata il servizio di Prearo. Ma abbiamo mantenuto un impegno fermo che era quello di rendere una città più pulita e decorosa rispetto alla devastante esperienza delle Ato. Già se ci facciamo un giro per Castelvetrano ci si rende conto che la situazione è in fase di miglioramento, notevolmente migliorata in alcuni punti. Dove conferisce il Comune di Castelvetrano? Noi conferiamo la discarica di Trapani-Borromea, così come da ordinanza del Presidente della Regione. Però per dire sulla vicenda dei lavoratori, nonostante questi lavoratori a questo Sindaco abbiano detto tutto il contrario di tutto, nonostante le proteste organizzate e i sobbillatori di professione che magari soffiano sul fuoco perché questi lavoratori hanno delle mensilità pregresse arretrate quando erano in regime Ato. Io ho mantenuto l'impegno, cioè tentare di garantire a questi lavoratori un futuro più sereno e questo sono contento soprattutto prima che con loro con la mia coscienza. Ma soprattutto ho la certezza che la pulizia del territorio affidata ad una ditta privata è certamente migliore di qualsiasi società d'ambito pubblica che gestisce il servizio di raccolta. Già i miglioramenti si notano. Nei prossimi giorni inizieremo con la raccolta differenziata e Castelvetrano, secondo me, con la collaborazione dei cittadini, può ritornare ai vecchi fasti di una volta. Quando a Castelvetrano la gestione dei rifiuti ce l'aveva forse l'ultima ditta era la Ecol Sicula, dove io ricordo da giovani amministratori di questa città come la stessa fosse molto più pulita rispetto che adesso. Quindi si doveva fare una campagna pubblicitaria anche per sensibilizzare i cittadini a come conferire la plastica, la carta eccetera? L'unedì mattina è già previsto un incontro con la ditta e con i responsabili del servizio proprio per iniziare la campagna pubblicitaria di promozione delle attività di raccolta differenziata perché l'obiettivo del 65% che è un obiettivo importante è certamente il dato che va raggiunto per un problema normativo, quindi dobbiamo assolutamente onorarlo. Sono convinto che con la collaborazione dei castelvetranesi, almeno con quelli onesti perché sono tanti delinquenti che purtroppo invadono le nostre città e le nostre campagne di rifiuti e che li abbandonano in ogni piesso spinto da ogni parte e questi non sono cittadini soltanto castelvetranesi e basta, sono cittadini castelvetranesi. Mi vergogno per loro e tuttavia sono dei delinquenti perché creano delle condizioni di assoluta invivibilità in alcune parti del territorio. Tenteremo di colpire anche loro. Sindaco, le casse comunali non sono floride, anzi direi proprio non lo sono attualmente. Non lo sono per nulla. Per cui ci sono molti fornitori che vengono a bussare anche alla sua porta per essere pagati. Cosa si può dire a questi? Si può dire che stiamo tentando, ora iniziamo con l'anticipazione di tesoreria, abbiamo fatto già le delibere di anticipazione e ritengo che a gennaio smaltiremo molto arretrato. Confidiamo molto in una regolarità nei pagamenti della Regione che purtroppo ancora non avviene. E nelle tasse dei cittadini? Confidiamo molto nella società di recupero che ormai gestisce il servizio di recupero del equoattivo perché è impensabile un'evasione per esempio della tassa del rifiuto al 50% in questa città. È impensabile che nessuno ritenga di poter contribuire ai costi necessari per esempio per tenere una città pulita. È impensabile l'evasione fiscale in generale ma è impensabile ai livelli che aveva raggiunto Castelvetrano fino a qualche tempo fa. Io sono fiducioso però perché alla fine Castelvetrano è uno di quei comuni che ha le condizioni anche da un punto di vista tecnico contabile per poter andare avanti. Se pensi per esempio che la vicina Sciacca ancora non ha approvato il bilancio di previsione del 2016 e siamo già nel 2017, ti renderai conto come Castelvetrano che ha già approvato il bilancio e ha già approvato il rendiconto 2015 sia avanti da questo punto di vista. Sulla liquidità ci stiamo lavorando. Ritengo che i prossimi mesi finalmente possano determinare le condizioni per avere delle risorse importanti e far fronte a tutta una serie di impegni. Un bel progetto che hai visto protagonisti in questa cooperazione per assistenza dei sordi e dei scechi all'interno delle scuole. Sono venuti sindacati, avete fatto un protocollo di intesa, in che cosa consiste? Abbiamo immediatamente garantito un servizio che prima garantiva la provincia regionale di Trapani, cioè i bambini sordi e ciechi di questa città, che sono otto, che venivano assistiti da cinque operatori di una cooperativa provinciale che aveva vinto una gara d'affalto, che rimanevano senza lavori i cinque lavoratori, ma soprattutto i bambini senza assistenza. Registrare che Castelvetrano è stato il primo comune ad approvare la delibera e già i lavoratori sono regolarmente in servizio senza aver perduto un giorno di assistenza ai bambini sordi e ciechi di questa città, per me è motivo d'orgoglio. Questa circostanza è stata correttamente rappresentata dai sindacati, dove Castelvetrano è stato il primo comune della provincia di Trapani e questo mi fa piacere, mi fa piacere perché abbiamo, così come facciamo ormai da 4 anni e 10 mesi a questa parte, garantito un servizio ai cittadini più bisognosi di questo territorio e sulla solidarietà sociale posso dire con assoluta certezza che Castelvetrano è il comune che ha investito di più in assoluto. L'ultima domanda, si può parlare di un dopoerrante o Errante sarà ancora candidato sindaco? Il dopoerrante è inevitabile perché a maggio finalmente si vota in questa città e quindi ci sarà un dopoerrante, non ci sarà un dopoerrante sindaco perché così come ho già detto Errante non è candidato a sindaco, non è interessato a rivestire questo ruolo, ma vedo che ci sono molti candidati e questo mi fa piacere, mi auguro che questi candidati possano affrontare una campagna elettorale con assoluto equilibrio, ma soprattutto tentando di affrontare i problemi di questa comunità senza promettere mani e monti perché non ci sono né mari né monti, c'è un periodo brutto che abbiamo attraversato e ci si augura di averlo già superato, ma comunque i periodi che arriveranno non saranno facili per il prossimo sindaco di questa città. Ho la sensazione che la campagna elettorale stia iniziando col piede sbagliato, tuttavia ognuno faccia quello che crede, io farò il sindaco in parziale fino alla data in cui verranno indetti i comizi elettorali, dopodiché da attore politico di questa città anche io sarò impegnato in campagna elettorale a sostenere uno dei candidati alla corsa di sindaco. Quale sarà l'identikit del futuro sindaco? Gli identikit non li fanno i politici e neanche i sindaci delle città, li fanno gli uffici della Polizia Giudiziaria. Io posso dire che il prossimo sindaco di questa città deve avere un requisito, quello di poter immediatamente guidare una macchina che non può assolutamente registrare momenti di fermata e di stop, che ha tanti problemi e che per quotidianamente tentare di mandarla avanti deve sacrificare la sua vita per almeno dieci ore al giorno. Io mi auguro che tutti quelli che si candideranno ancora non li conosco tutti i candidati, sento alcuni nomi ma non li conosco tutti, siano in qualche maniera pervasi da questo spirito di servizio. Sono ottimista perché ho la sensazione che poi alla fine i cittadini castelverdanesi sappiano scegliere e sceglieranno il migliore candidato possibile. In bocca al lupo a tutti noi perché questa campagna elettorale possa dare una nuova amministrazione e un nuovo slancio a questa città. Grazie.